Ciao a tutti ragazzi, sono Matteo del Remory Avete visto la intro ma sicuramente non si capito nulla perchè c'era casino e niente, sto per fare un'altra E niente, a quanto pare questo mio amico ha portato un Nintendo Switch per farne provare con Pokémon Let's Go Pikachu, quindi vedete io, vedete me sto giocando a Pokémon Let's Go e si è veramente una console molto comoda e infatti è niente in solito da acquistarla infatti dopo questa giocata a Pokémon Let's Go non resisto proprio a prendermela è veramente una console comodissima e infatti si me l'ha fatto provare io se riuscite a vedere ero Lavandogna nell'attore di Lavandogna sono arrivato fino a Zulopoli ho sconfrittato un vecchio allenatore che ha portato di qualche coppia e si riescono a che giocare e quindi si pensa proprio che la acquisterò e quindi in un'attore di un'attore di Lavandogna e poi a me che ho fatto la giocata e poi a me che ho fatto in un'attore di Lavandogna e poi ho fatto un'attore di Lavandogna bellissimo l'attore di Lavandogna l'attore di Lavandogna è già accesa Non ti aspetta. Non ti aspetta, 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 non ti aspetta.